benvenuti in questa guida top 7 borse da donne a tracolla di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo love moschino borsa a tracolla questa borsa love moschino è una scelta eccellente per chi cerca una borsa da donna a tracolla di qualità è realizzata con materiali di alta qualità e presenta un design moderno ed elegante la tracolla regolabile offre una comoda portabilità punteggio 74 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo desigual bag borsa radical love copenag questa borsa desigual è una vera e propria opera d'arte il design è unico con una combinazione di colori e stampe che la rendono unica la tracolla è comoda e regolabile mentre l'interno è ben organizzato e spazioso una borsa perfetta per chi ama osare con lo stile punteggio 84 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo tracollina alviero martini prima classe questa tracollina alviero martini prima classe è una borsa elegante di classe il design classico con stampa geo natural classic è molto bello e alla moda la tracollina è realizzata in pelle di alta qualità ed è molto resistente ha una tasca interna con zip per riporre tutti i tuoi oggetti punteggio 87 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare desigual bag borsa dandy leon facet questa borsa desigual è una scelta eccellente per chi cerca un accessorio di stile la sua forma a tracolla e il motivo floreale sono alla moda mentre la sua fodera interna offre spazio sufficiente per tutti i tuoi oggetti essenziali una borsa da donna di qualità che non deluderà punteggio 84 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo desigual psico logo facet stride questa borsa desigual è una scelta eccellente per chi cerca una borsa alla moda e di qualità la tracolla regolabile è comoda da indossare mentre il design moderno e le stampe colorate aggiungono un tocco di stile la borsa è abbastanza grande da contenere tutti i tuoi oggetti essenziali punteggio 88 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo mandarina dac borsa a tracolla questa borsa mandarina dac è una scelta eccellente per chi cerca una borsa a tracolla di qualità il design elegante e moderno con la sua finitura grigia iron gate è perfetto per ogni occasione la borsa è spaziosa e resistente con una dimensione di 22 per 14 punteggio 91 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica mandarina dac borsa a tracolla questa borsa è una vera chicca è realizzata in materiale di qualità con un design moderno e una tracolla regolabile la sua grandezza è perfetta per contenere tutti i miei oggetti essenziali lo consiglio vivamente punteggio 99 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale